l'otto marzo è l'otto marzo vorrei che potesse essere una festa purtroppo non lo è non lo è forse non lo sarà mai sicuramente non lo è ora non lo è quest'anno e è una l'ennesimo giorno in cui ci si rende conto che noi come donne dobbiamo continuare a combattere a tenere botta per cui una festa è un giorno nel quale come dire abbiamo l'attenzione anche di tutti quanti sulla nostra esistenza ricordo che durante gli anni del liceo un mio compagno scrisse in un tema cosa farai da grande il naufrago e prese 6 io avrei potuto scrivere avrei dovuto scrivere l'archeologa perché c'è qualche altro mestiere io ho una certa una certa età e quando mi sono affacciato a questo mondo questo era un mondo prettamente maschile e nei cantieri andavano gli archeologi maschi e ora non è più così e la mia squadra è una squadra al femminile quando vado in un cantiere non mi chiamano più signora mi chiamano dottoressa e quando ci allacciamo gli scarponi mettiamo tutti i dispositivi di protezione siamo professionisti come gli altri direi è cambiato molto negli ultimi 20 anni veramente molto